Arnautovic o Sanchez? Arnautovic o Sanchez? Chi schierare? Chi far giocare in queste partite? Adesso lo vediamo insieme. Ma prima, mi raccomando, fatelo per gli dei dell'algoritmo di YouTube, iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella e selezionate tutte, in modo che vi arrivino le notifiche di tutte le volte che faccio i video di quando entro in live. Allora, perché dico Sanchez o Arnautovic? Perché ragazzi, lo sapete tutti, insomma, Turam sei infortunato nella partita di Champions contro l'Atletico, grazie a Dio non è nulla di grave, tant'è vero sono stati fatti gli esami, 10-15 giorni di recupero e ci sarà sicuramente con l'Atletico Madrid al ritorno, cosa per noi importantissima, perché lo sappiamo, no? Poi il contropiede che faremo lì al Banda Metropolitano, Turam, indispensabile, eccetera, eccetera, eccetera. Però, quindi Turam salterà qualche partita, non ci sarà domenica con Lecce, non ci sarà nel recupero fondamentale per noi contro l'Atalanta e col Genoa forse rientrerà in panchina, ma molto probabilmente a Bologna potrebbe fare una spezzone di gara. Quindi, comunque, Lecce, Atalanta e Genoa, ragazzi, non ci sarà Turam. E allora, qual è la soluzione? La soluzione, ovviamente, è far giocare Arnautovic o Sanchez, chi dei due, o quantomeno chi dei due titolare, perché poi, ragazzi, sappiamo che Inzaghi fa la staffetta, quasi sempre, fra gli attaccanti. Quindi, con chi partire? Già da Lecce. Allora, Lecce è una squadra che prende molti gol. Lecce è una squadra che ha dei giocatori in difesa, soprattutto Baschilotto, ma penso anche a Pongrasic, tutta questa gente qui, che comunque è molto aggressiva, forte fisicamente, veramente violenta a livello calcistico. Allora, qui ci sono un po' due teorie, perché tu dici, posso mettere Arnautovic per contrastare a livello fisico i loro difensori, ecco, fare la lotta, oppure Sanchez, che viene un po' più indietro, sfila il difensore centrale che magari lo segue e con l'inserimento del centrocampista, quindi Barella, Frattesi, Michi, Di Turno, posso sorprenderli. Qual è il problema? Il problema è che se metti Sanchez, comunque qualcuno in profondità, in centro dell'aria, ci deve giocare, che è questo qualcuno, ovviamente Lautaro. E quindi Lautaro prenderebbe molte più botte lui, dai vari Baschilotto, eccetera, eccetera. Allora cosa fare? Allora meglio mettere Arnautovic. Meglio mettere Arnautovic. Io sono per partire sempre con Arnautovic, perché comunque è un attaccante d'aria. È vero che sbaglia parecchi gol, però ragazzi dobbiamo partire quasi sempre con lui. Ma in realtà, sapete, forse la soluzione migliore non è a scegliere fra Arnautovic e Sanchez e farli giocare entrambi. Ovviamente con in più Lautaro. Perché io vi ricordo ragazzi che Sanchez è un trequartista ormai, non è più una punta. Cioè a Sanchez piace giocare fuori dall'area centrale a dare la palla miracolosa, la palla che apre lo spazio, che mette il compagno davanti la porta. E allora forse, forse, per arrivare alla forza, all'efficacia che dava Turam e che darà Turam quando tornerà tra due settimane, non basta uno solo fra Arnautovic e Sanchez. Ci vogliono tutti e due. Come questo? Dal primo minuto? Beh, con squadre come il Lecce assolutamente sì ragazzi. Con squadre come il Genoa assolutamente sì ragazzi. Con squadre come l'Atalanta magari puoi pensarci in un secondo momento, nel secondo tempo. ok? Però, io senza paura proverei anche con Lecce a schierare Sanchez dietro Arnautovic e Lautaro. lasci fuori i migli, così si riposa, ok? E fai il centrocampo con Barella e Ciala e basta. Si può fare? Certo che si può fare. Si può fare. L'abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti di qualche assalto finale quando le partite non ci andavano bene. Perché non si può fare da più a un minuto? Lo farà Inzaghi? Ovviamente no, lo conosciamo. Però ragazzi, io questa è un'idea a cui penserei. Perché comunque senza Duram noi perdiamo tanto a livello offensivo. E uno solo fra Arnautovic e Sanchez non copre la sua efficacia offensiva. Quindi io penserei a farli giocare entrambi. Ripeto, con Lecce e Genoa dal primo minuto, con l'Atalanta magari no. perché lì ci vuole un po' più di equilibrio. Quelli attaccano bene. Però, vabbè, di base ragazzi deve partire Arnautovic. Perché Sanchez poi non è neanche detto che abbia tutti i 90 minuti nonostante abbia giocato pochissimo. Ma l'età è quella che ovviamente cos'è la la cosa che perdiamo oltre i gol ragazzi senza Duram perdiamo il creare l'occasione di gol e l'ho ripetuto tante volte e ve lo ripeto. Quando noi creiamo molte palle gol succede perché andiamo a recuperare la palla alta e facciamo un pressing alto sui difensori e i versari facendo questo pressing asfissiante sui difensori che la giocano male sui centrocampisti che poi la perdono. Quindi chi sono i primi a fare pressing? Le due punte è la mezza alla destra che è il nostro Barella e ragazzi quando c'è in campo Arnautovic o Sanchez pressano male sono meno feroci sono più lenti o comunque hanno meno fiato di Duram quindi il pressing il primo pressing viene fatto male dall'Inter senza Lautaro Duram questo comporta che l'avversario esca molto meglio e perda molti meno palloni in costruzione e quindi l'Inter crei meno occasioni da gol e questo è un grave problema un gravissimo problema però appunto potremmo cambiare lo schema la strategia e magari mettere un trequartista due punte ok stare un po' più bassi però poi nella ripartenza o comunque andare sempre di giro palla con un Sanchez in più già dal primo minuto e questo sparirebbe le carte cioè l'allenatore avversario non se l'aspettava una roba del genere questa potrebbe essere una soluzione per tutti quelli che stanno pensando Simon Alca ma poi non c'è cambi di attacco non è vero primo che ci abbiamo qualche primavera da poter far entrare all'occorrenza penso a Sar volendo anche Michi e Klasen possono giocare molto più avanzati lo stesso Buchanan perché no nel caccio tutto si può fare Michi la può fare la seconda punta Klasen anche quindi dobbiamo fare di necessità virtù di sicuro io mi aspetto che quello che Inzaghi deve ripetere con un mantra ad Arnatovi c'è di dare tutto in fase di pressi deve essere più veloce nel recupero della palla nel pressare e poi ritrovare una maggiore tranquillità sotto porta perché ragazzi quegli errori che fa lui sono errori di testa perché non è che Arnatovi Davanti alla porta spalancata contro l'Aderico non sappia far gol è che la sua testa in quel momento non è lucida è troppo emozionata troppo nervosa e lì sbaglia però in queste tre quattro partite per noi sono fondamentali dobbiamo continuare a vincere per deprimere gli avversari e per lasciare magari ulteriore margine magari quegli altri pareggiano perdono noi dobbiamo approfittarne quindi dobbiamo vincere e dobbiamo arrivare alla partita con l'Aderico tranquilli in campionato ecco perché Arnatovi e Sanchez saranno fondamentali io mi aspetto grandi cose da loro perché fin qui hanno contribuito poco alla stagione dell'Inter e adesso devono dimostrare soprattutto Sanchez perché Sanchez è stato un grande campione ha grande tecnica quindi mi aspetto delle giocate decisive da parte sua fatemi sapere cosa ne pensate voi chi schierereste i vostri i vostri moduli quello che fareste insomma cambiereste schema eccetera eccetera detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che verivino tutte le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live live che poi riprenderemo a fare domenica dove faremo le live reaction di Milan e di Juve mi raccomando il nostro solito saluto è latino vite te mox forza inter sempre amala grazie a tutti